Oh, pubblicità! Vai, Tonuzzo! Ehi tu, digimi la verità. È vero o no, mi capassi tutta giornata cu' un cellulare umano senza fa niente? Se la tua risposta è affermatoria, allora scarichiti subito WhatsApp. WhatsApp è l'applicazione più sorprendente per il tuo cellulare. Infatti, quando non dici niente che fa o pierdi tempo, WhatsApp tu dici. In pochissime minuti ti segnala il primo posto vacante da bracciante disponibili. E finalmente potrai dicere addio alle giornate grigie che t'hanno rotta a me già per tutta la vita. Bazza! Il primo grande ufficio di collegamento on the line della Calabria direttamente sul tuo smartphone o ipone. Ipone! E in più, ai primi dieci che se lo scarichino, ci sono nove concetti d'assunzione a tempo inetermonaboli. O decimo sapiglia l'ugulo. Come portaborse in comune. Perché ricordati che va buona a fatica. Però, non sta tale, è come non diamante. È per sempre! Senza fare niente! E se proprio a fortuna non è cosa da tua, allora non ti preoccuparti proprio. Un WhatsApp ci sarà sempre un trattore che t'aspetta. E allora, senza nessun esitamento, piglia via da masseria. C'ha WhatsApp e capitina. Oh, lo scarico sempre. Risultatore autorizzato per Cosenza e provincia. Indovenate che ne... Macelleria, Carnizi, Francesco e figli, lo sappiamo. Complementissimi! Telefono 0982-9828-38-58-68. Ma non è stato lungo. Ma non è stato lungo. Non è stato lungo. Non è stato lungo.